In questo tutorial vediamo come risolvere sistemi di tre disequazioni di secondo grado. Partiamo da questo esempio. Per risolvere il sistema dovremo andare a determinare la soluzione della prima, della seconda e della terza disequazione e poi determinarne la parte comune. Partiamo con risolvere la prima disequazione. È una disequazione di primo grado, quindi è sufficiente portare il 7 a destra e dividere poi tutte e due membri per 4, ottenendo x minore di 7 quarti. Vado ora a risolvere la seconda disequazione. Porto l'1 al secondo membro, ottenendo meno x minore di meno 1 e poi moltiplico tutte e due membri per meno 1 cambiando verso, ottenendo così x maggiore di 1. Vado ora a risolvere la terza disequazione. Osservo che il coefficiente di x quadro è negativo e allora moltiplico tutto quanto per meno 1 scrivendo meno 9 più 16x quadro e da minore passo a maggiore di 0. Ora passo all'equazione associata scrivendo meno 9 più 16x quadro uguale 0 e risolvo l'equazione. Porto il 9 a destra ottenendo 16x quadro uguale 9, divido tutte e due membri per 16 e in questo modo semplifico il coefficiente di x quadro ed infine estrago la radice quadrata ottenendo x uguale più o meno tre quarti. Questo vuol dire che la parabola intersegalasse delle x in due punti, in meno tre quarti e in tre quarti. Prima di meno tre quarti la parabola è positiva, tra meno tre quarti e tre quarti la parabola è negativa e dopo è di nuovo positiva. Vado ora a vedere la domanda e devo vedere il segno del passaggio che precede l'equazione associata alla disequazione e quindi qui c'è scritto maggiore e la parte maggiore la vedo qui e qui, ossia per valori minori di meno tre quarti e per valori maggiori di tre quarti. Ora devo determinare la parte comune di questo intervallo, di questo intervallo e di questo intervallo. Ho ricopiato la soluzione della prima disequazione che è composta dai valori minori di sette quarti. Ricopio poi la soluzione della seconda disequazione che risulta essere composta dai valori maggiori di uno ed infine ricopio la terza soluzione, ossia sono i valori minori di meno tre quarti e i valori maggiori di tre quarti. La parte comune dei tre intervalli risulta essere questa, ossia quando x è compreso tra uno e sette quarti. Risolviamo quest'altro sistema. Partiamo dalla prima disequazione. È una disequazione di primo grado e allora sarà sufficiente portare il 3 al secondo membro e dividere per 2, ottenendo x maggiore di tre mezzi. Risolvo ora la seconda disequazione. È di primo grado, porto l'1 a destra e divido per 3, ottenendo x maggiore di meno un terzo. Per quanto riguarda la terza disequazione, è una disequazione di secondo grado e allora dovrò passare all'equazione associata e determinarne le soluzioni. A conti fatti otteniamo un mezzo e meno un terzo e allora vuol dire che la parabola in terze calasse delle x in due punti, esattamente in meno un terzo e in un mezzo. Prima di meno un terzo la parabola è positiva, tra meno un terzo e un mezzo la parabola è negativa e dopo è positiva. Vedo ora la domanda. Mi viene chiesto quando questa quantità è minore di zero e il minore di zero lo vedo qui, tra meno un terzo e un mezzo. Ora, per determinare la soluzione del sistema, devo intersecare questo intervallo, questo intervallo e questo intervallo. Ho rappresentato la prima soluzione che è composta dai valori maggiori di tre mezzi. Ho poi rappresentato la seconda soluzione che è composta dai valori maggiori di un terzo. Ed infine ho rappresentato la terza soluzione che è composta dai valori compresi tra meno un terzo e un mezzo. Vado ora a vedere la parte comune dei tre intervalli. Mi rendo conto che non esiste una parte contemporaneamente verificata dalla prima, dalla seconda e dalla terza disequazione. E allora concludo che il sistema è impossibile. Vediamo quest'altro esempio e partiamo dalla prima disequazione. Osservo che il coefficiente di x quadro è negativo e allora la prima cosa che faccio è moltiplicare tutte e due membri per meno uno, ottenendo x alla seconda meno x meno 2 maggiore di zero. Visto che la disequazione è una disequazione di secondo grado, passa all'equazione associata e ne vado a determinare le soluzioni. A conti fatti si ottiene 2 e meno 1 e allora vuol dire che la parabola interseca l'asse delle x in due valori, esattamente in meno 1 e in 2. Prima di meno 1 la parabola è positiva, tra meno 1 e 2 la parabola è negativa e dopo è positiva. Vedo ora la domanda e devo vedere il segno della disequazione che precede l'equazione associata. Qui c'è scritto maggiore di zero e il maggiore di zero lo vedo qui e lo vedo qui, ossia per valori minori di meno 1 e per valori maggiori di 2. Vado ora a risolvere la seconda disequazione. Come prima cosa moltiplico tutte e due membri per 2 e semplifico il denominatore a primo membro. ottengo così x più 2 maggiore uguale a 2. Semplifico 2 e 2 ottenendo x maggiore uguale a zero. Vado ora a risolvere la terza disequazione. È una disequazione di secondo grado e allora devo passare all'equazione associata e determinarne le soluzioni. A conti fatti si ottiene 7 e meno 2 e allora vuol dire che la parabola interseca l'asse delle x in due valori, in meno 2 e in 7. Prima di meno 2 ho positività, tra meno 2 e 7 la parabola risulta essere negativa e dopo la parabola è di nuovo positiva. Vedo ora la domanda. Mi viene chiesto quando questa quantità è maggiore di zero e il maggiore di zero lo vedo qui e lo vedo qui. Ora per determinare la soluzione del sistema vado a intersecare questa soluzione con questa soluzione e con questa soluzione. Ho ricopiato la prima soluzione che è composta dai valori minori di meno 1 e dai valori maggiori di 2. Ho ricopiato poi la seconda soluzione che è composta dai valori maggiori uguali a zero ed infine ho ricopiato la terza soluzione che è composta dai valori minori di meno 2 e dai valori maggiori di 7. La parte comune di questi tre intervalli è questa qui, ossia quando x è maggiore di 7. Risolviamo questo sistema, partiamo dalla prima disequazione, è una disequazione di secondo grado e allora devo passare all'equazione associata e ne vado a determinare le soluzioni. A conti fatti otteniamo meno 3 e un mezzo e allora vuol dire che la parabola interseca l'asse delle x in due valori, in meno 3 e un mezzo. Prima di meno 3 la parabola è positiva, tra meno 3 e un mezzo la parabola è negativa e dopo è positiva. Vediamo ora la domanda. Mi viene chiesto quando questa quantità è maggiore di zero e il maggiore di zero lo vedo qui e lo vedo qui, ossia per valori minori di meno 3 e per valori maggiori di un mezzo. Vado ora a risolvere la seconda disequazione. eseguo questa moltiplicazione e porto l'8 a primo membro ottenendo x alla seconda più 2x meno 8 minore di zero. È una disequazione di secondo grado, passa l'equazione associata e ne determino le soluzioni. Applicando la formula risolutiva otteniamo 2 e meno 4 e allora la parabola taglierà l'asse delle x in due valori, esattamente in meno 4 e in due. Prima di meno 4 la parabola è positiva, tra meno 4 e meno 2 la parabola è negativa e dopo di 2 la parabola è di nuovo positiva. Vedo ora la domanda. Mi viene chiesto quando questa quantità è minore di zero e il minore di zero lo vedo tra meno 4 e 2. Risolvo ora la terza disequazione. È una disequazione di secondo grado e allora passa all'equazione associata e ne determino le soluzioni. Metti in evidenza una x ottenendo 2x meno 7 uguale 0. Pongo uguale a 0 prima il primo fattore, ottenendo x uguale 0 e ponendo uguale a 0 il secondo fattore, a conti fatti si ottiene x uguale 7 mezzi e allora vuol dire che la parabola interseca l'asse delle x in due valori, in 0 e in 7 mezzi. Prima di zero la parabola è positiva, tra 0 e 7 mezzi la parabola è negativa e dopo è di nuovo positiva. Vedo ora la domanda. Mi viene chiesto quando questa quantità è maggiore di zero e il maggiore di zero lo vedo qui e lo vedo qui, ossia per valori minori di 8 e per valori maggiori di 7 mezzi. Ora per determinare la soluzione del sistema intersecherò questi tre intervalli. Ho rappresentato la soluzione della prima disequazione che è composta dai valori minori di 3 e dai valori maggiori di un mezzo, ho poi rappresentato la seconda soluzione che è composta dai valori compresi tra meno 4 e 2 ed infine ho rappresentato la terza soluzione che è composta dai valori minori di zero e dai valori maggiori di 7 mezzi. La parte comune dei tre intervalli è questa, ossia quando x è compreso tra meno 4 e meno 3. Vediamo quest'ultimo esempio e iniziamo a risolvere la prima disequazione. È una disequazione di secondo grado e allora devo passare all'equazione associata e ne vado a determinare le soluzioni. Applicando la formula risolutiva otteniamo meno 5 terzi e un mezzo e allora la parabola in terze regalasse delle x in due valori, esattamente in meno 5 terzi e un mezzo. Prima di meno 5 terzi la parabola è positiva, tra meno 5 terzi e un mezzo la parabola è negativa e dopo è di nuovo positiva. Vedo ora la domanda. Mi viene chiesto quando questa quantità è maggiore di zero e il maggiore di zero lo vedo qui e lo vedo qui. Vado ora a risolvere la seconda disequazione. Osservo che il coefficiente di x quadro è negativo e allora prima di tutto moltiplico per meno 1 e riscrivo in forma ordinata la disequazione ottenendo 4x quadro meno 7x meno 2 minore di zero. Essendo una disequazione di secondo grado passo all'equazione associata e ne vado a determinare le soluzioni. Applicando la formula risolutiva otteniamo come soluzioni 2 e meno 1 quarto e allora la parabola intersega l'asse delle x in due valori, in meno 1 quarto e in 2. Prima di meno 1 quarto la parabola è positiva, dopo è negativa e dopo è di nuovo positiva. Vado ora a vedere la domanda e devo vedere il segno della disequazione precedente all'equazione associata e allora devo vedere questo dove c'è scritto minore di zero e il minore di zero lo vedo qui tra meno 1 quarto e 2. Risolvo infine la terza disequazione. Porto 2x a sinistra ottenendo x alla seconda meno 2x maggiore di zero. Passa all'equazione associata e visto che è un'equazione spuria metto in evidenza una x scrivendo x che moltiplica x meno 2 uguale 0. Pongo ora uguale a 0 il primo fattore ottenendo x uguale 0 e poi pongo uguale a 0 il secondo fattore, ossia x meno 2 uguale a 0 da cui si ottiene x uguale 2 e allora la parabola interseca l'asse delle x in due punti, in 0 e in 2. Prima di 0 la parabola è positiva, tra 0 e 2 la parabola è negativa e dopo di 2 è positiva. Vedo ora la domanda, mi viene chiesto quando questa quantità è maggiore di zero e il maggiore di zero lo vedo qui e lo vedo qui. Ora per determinare la soluzione del sistema interseco le tre soluzioni. Ho rappresentato la prima soluzione che è composta dai valori minori di meno 5 terzi e dai valori maggiori di un mezzo, ho poi rappresentato la seconda disequazione composta dai valori compresi tra meno un quarto e 2 ed infine ho rappresentato la terza soluzione che è composta dai valori minori di zero e dai valori maggiori di 2. Vado ora a determinare la parte comune di questi tre intervalli. Osservo che questi tre intervalli contemporaneamente non hanno mai una parte in comune e allora vuol dire che il sistema risulta impossibile. E con questo termino il tutorial su sistemi di tre disequazioni di secondo grado.